Sono io ragazzi, in questo videogioco Injustice Gods Among Us vi devo dire una cosa, ora parliamo seriamente. Se si avvicinano abbastanza, gli overbot di Lex Luthor sono in grado di assorbire i tuoi poteri, distruggili per invertire l'effetto, capite? Questa è una missione Starlab per Black Adam. Il problema è che ci tocca affrontare Bane, che a me non piace per niente, mi fa sempre innervosire, mi fa perdere la pazienza. E poi mi rompe le scatole. Lanciate Wasp per ottenere i poteri. Per lanciare il Wasp, quando siete vicini, premete R1. Belli sono questi fulmini di Black Adam. E poi ditemi se Black Adam è più forte di Shazam. Mi ha fatto perdere la super mossa perché ha parato. Dai che voglio vincere. Mi dà una bella scarica, un fulmine per te, una notizia shock per te, stupido Bane. No, la super mossa di Bane, no. Non ci voleva. Oh, vittoria finalmente. Abbiamo vinto. Se il video vi è piaciuto, condividetelo. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Parola di Gabriosta. Mi raccomando, continuate così. A ogni video che recensisco, a ogni video che faccio, dovete seguirmi su YouTube. In continuazione. Ricordatevi anche Costanza Fims, però. Lo trovate qui sotto in descrizione.